C'è anche chi è ormai costretto a risparmiare persino sulla spesa. Per gli anziani in Sardegna arrivare a fine mese sta diventando sempre più duro. 9 su 10 infatti sono costretti a drastiche rinunce pur di arrivare sino alla quarta settimana. La vita, insomma, è sempre più dura per gli oltre 470.000 pensionati sardi che, di media, incassano poco più di 800 euro al mese, sempre più spesso insufficienti per una cena in ristoranti o un caffè al bar, ma anche per il carburante dell'auto o persino per una capatina dal barbiere. Ad incidere pesantemente sui bilanci del 95% dei pensionati dell'isola sono i costanti rincari che, secondo il recente rapporto della WILP, il sindacato dell'Unione Italiana Lavoratori Pensionati, sta portando ad un progressivo e pesante impoverimento. L'inflazione alle stelle e il taglio della rivalutazione sono state infatti due pesantissime stangate per il potere d'acquisto delle pensioni, soprattutto in una regione come la Sardegna, in cui gli importi sono estremamente bassi e il carrello della spesa continua ad aumentare. Per non parlare del contraccolpo sul riscaldamento, spento o ridotto dal 90% degli anziani, o sul consumo dell'elettricità, ridotto del 88% degli over 65. Eppure, nonostante la perita del potere d'acquisto, il 70% delle pensionate e dei pensionati continua ad aiutare a livello economico un familiare, molto spesso un figlio o una figlia. A questa situazione si aggiungono le enormi difficoltà di erogare servizi adeguati, soprattutto nelle zone dell'interno, carenza di assistenza sanitaria sul territorio anche per mancanza dei medici, lunghe liste d'attesa, carenza di alcuni medicinali importanti. Per questo la UILP rivendica l'attivazione di tavole di confronto a livello regionale, che affrontino in primis le liste d'attesa e poi il tema fondamentale della medicina territoriale.